Lo aveva annunciato il giorno prima, Luciano D'Alfonso sarebbe stato in prima linea nel processo di Bussi, quello finalizzato a far chiarezza sulle responsabilità e i danni perpetrati sull'acqua potabile che da Bussi riforniva tutta la Val Pescara. L'indagine, scattata nel 2007 sul denuncia della forestale, ha visto poi avvicendarsi anno dopo anno polemiche e ostacoli burocratici che ad oggi non hanno ancora portato alla chiusura del caso. Questa mattina Chieti riprende il processo davanti alla Corte d'Assise, processo corrito abbreviato a carico di 19 imputati fra ex dirigenti ed ex tecnici della Montedison per le discariche dei veleni scoperte intorno allo stabilimento di Bussi sul Tirino. Per tutti l'accusa è avvelenamento di acque e disastro ambientale. Noi vogliamo che si determini il giusto processo, sia per quanto riguarda i fatti del passato, ma vogliamo anche che si determini una, Norberto Bobbio diceva, sanzione positiva o negativa in relazione anche al futuro, in maniera tale che le condotte individuali e collettive mai più possano avere a determinare quel livello di rovina dei beni irripetibili del creato, beni irripetibili che sono l'acqua e la terra. Noi abbiamo bisogno di ripristinare il giusto livello di vivibilità in tutto il contesto di Bussi e della Vallada del Pescara, non solo per la qualità della vita ma anche per l'attrattiva delle imprese. Non c'è più un imprenditore che vuole andare ad investire lì poiché ha paura della quantità e della qualità dei danni. È stato fatto un calendario molto stretto, ho visto un clima molto sereno, del quale ringrazio coloro i quali presiedono quella seduta di giustizia penale e ringrazio anche coloro i quali rappresentano le parti in un confronto dialogico perché deve essere consentito in maniera piena a chiunque di esprimere la propria posizione. Quello che è certo è che l'Abruzzo lì deve riportarci la vita e per riportarci la vita c'è bisogno anche di un notevole patrimonio finanziario.